Bambini con disabilità che voce non hanno dovuta a sordità o a patologie del sistema nervoso centrale, insomma quella fetta di popolazione da proteggere proprio perché non può parlare. Esiste una legge regionale, la numero 11 del 23 febbraio 2018, nel cui testo si legge ad esempio che i film proiettati al cinema dovrebbero avere i sottotitoli, che le letture in biblioteca devono avere un interprete, che al pronto soccorso il bambino o l'adulto deve avere l'opportunità di comunicare in quella che è la sua lingua, quella dei segni. Ciliegine sulla torta, anche alla visita della Commissione 104 e alla Commissione Erogazione Indennità, non vi è modo di esprimersi, insomma una legge che però non trova risposta concreta nella vita di tutti i giorni. Sono sette anni che con la mia storia io ho passato tutti gli uffici della regione e ho scritto a tutti i consiglieri, ma non intendo regione uffici determinati, intendo regione a tutti i consiglieri, all'assessore al sociale, all'istruzione, al governatore Luca Zaia. Tutti sanno la mia storia, tutti sanno anche che la lingua dei segni c'è, però fa comodo rispondere quando si tratta di un bambino o un genitore, dire che cosa vuoi ancora. Eppure l'unica università in Italia che sforna laureati in lingua dei segni italiana abbinata a un'altra lingua, Catania solo dall'anno scorso, ce l'abbiamo proprio a casa a Venezia, la Caffoscari. 400 formati ogni anno, pronti per dare risposta, fare sinergia in ambito sanitario, scolastico e di vita quotidiana, partendo ad esempio anche dalle informazioni comunali, ma costretti in realtà a rimanere disoccupati, ad emigrare o cambiare addirittura lavoro. La regione ha fatto una legge e dirò una cosa, è una legge che contiene un testo unico, il più bello a livello nazionale, non c'è nessuna regione che abbia fatto una legge con questo contenuto. Hanno scritto una bellissima poesia che è finita all'interno di un burr, cioè il libro dove vengono pubblicate le leggi e là è rimasta.